Continua l'attività di ricerca ed ottenimento di fondi da parte della Cooperativa di Comunità di Sciacca Identità e Bellezza, che gestisce il Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Dopo i 120 mila euro ottenuti con il Bando Cultura Crea di Invitalia, i 10 mila euro con il progetto Rigenera di Attiva Sicilia, questa è la volta del Bando Ripartenze Inclusive, indetto dalla Fondazione Comunitaria di Agrigente e Trapani, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze per favorire la ripresa inclusiva e sostenibile delle comunità, secondo i principi degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite a seguito dell'emergenza causata dal Covid-19. Si tratta di 10 mila euro, di cui 7 mila a fondo perduto e 3 mila la Cooperativa dovrà ottenerli attraverso un crowdfunding che verranno utilizzati per la nascita di un infopoint diffuso in città, ovvero un sistema di accoglienza diffusa e inclusiva che vedrà il coinvolgimento di varie associazioni impegnate nel sociale in modo da produrre strumenti di narrazione e accoglienza per i cosiddetti normodotati, ma anche per i non vedenti, non udenti e bambini speciali, con difficoltà nella comunicazione e nelle relazioni. È un progetto che ci emoziona molto e riempie di gioia, commenta la Presidente della Cooperativa di Comunità, Viviana Rizzuto, perché punta su due pilastri su cui regge il Museo Diffuso, la sostenibilità, trasformando semplici cittadini in protagonisti e narratori della bellezza e dell'identità del luogo in cui vivono, e sull'inclusività, perché ognuno vivrà bene nel luogo in cui abita quando tutti, nessuno escluso, avranno la possibilità di vivere bene ed essere felici. I progetti selezionati parteciperanno al programma di crowdfunding finalizzato alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie all'effettiva realizzazione del progetto. Quelli che raggiungeranno almeno il 30% del traguardo fissato potranno essere cofinanziati per il restante 70% a fondo perduto. Per anni ci siamo sentiti dire che non possiamo fare nulla per i nostri territori perché non ci sono soldi, conclude Rizzuto. Ebbene, coi fatti, la comunità di Sciacca sta dimostrando che i soldi ci sono. Servono idee e buona volontà per trasformare visioni in progettazione e gli obiettivi dei singoli in risultati per tutti.